ciao ragazzi vi faccio vedere un po' di smalti allora iniziamo con questo marca melissa questo è il verde smeraldo ed è il 41 ops e questo è il colore alla prima passata facciamo la seconda passata e questo è il risultato ovviamente molto più bello poi 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 vediamo veniamo a questo giallo giallo fluo, questo è il 78 mi sono dimenticata di prendere l'arancione fluo visto che ho la desigual arancio fluo come borsetta questa è la prima passata adesso faccio la seconda e vediamo ma già la prima forse meglio di quella verde e questo è il risultato poi che cosa abbiamo preso della winnie questo qua jumbo e questo è il risultato la prima passata adesso facciamo la seconda passata questo però secondo me è più uno smalto da usare come top coat perché anche se fate la seconda passata come potete vedere non riesce a coprire tutta l'unghia ok? quindi e questo qua puzza anche un pochino sì questo puzza un pochino quindi questo non ve lo consiglio proprio più niente sembra che hanno scogliato un gatto tanto che puzza quello là questo puzza però un pochino di meno ed è questo qua 7 days non riesco a vedere il numero però sarebbe questo anche questo sarebbe da usare come top coat anche perché anche facendo la seconda passata non si riesce mai a picchiettare tutta l'unghia con l'oro poi ho preso questo qua sempre 7 days winnie non lo vedo scritto il colore che sarebbe questo e già è molto più bello però facciamo la seconda passata e vediamo il risultato ecco qua la seconda passata è ancora più bella questo è veramente da prendere in considerazione e adesso voglio fare una cosa su questo della melissa voglio mettere questi due e questo è il risultato di due passate di questo più una passata di questo più una passata di questo quindi questo prima due di questi poi questo e poi questo comunque sempre prima questo se vi piace il risultato e con questo è tutto vi saluto ciao alla prossima ciao 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 ciao